Non mi dire che sei ancora in giro lì, con l'agendina a cercare di far quadrare gli appuntamenti. No, no, no. Perché? Perché in questo video parliamo degli 11 migliori strumenti che ci sono attualmente sul mercato. Una classifica per aiutarti a prendere, ovviamente, in automatico, gli appuntamenti, la gestione degli incontri, tutto quello che ha a che fare con la tua agenda. Perché io mi chiamo Stefano e ho l'Automatiker e Futuro Automatiker. Ti do il benvenuto in Automatiking. Noi siamo la prima e unica Academy che in Italia e in Europa, guarda un po', ti aiutano effettivamente a mettere il pilota automatico al tuo business. Se non sai da dove iniziare, è facile, facile, grazie alla nostra newsletter, puoi iniziare a gratis. Iscrivi automaticin.com slash gratis, appunto, e ricevi gratuitamente ogni settimana ben tre strumenti di automazione per vendere di più senza stress. Andiamo a vedere con l'amico di oggi di che cosa parleremo. Chiederò al nostro amico, caro, caro, caro Bernardo. Diciamo, Bernardo, ma facci capire un po' perché oggi ci stai parlando di 11 strumenti per gestire l'agenda in automatico. Ma poi ci deve far vedere gli 11 strumenti. Ma ti invito a restare fino alla fine perché ti darò due chicche. Uno per strumenti di gestione di progetti perché magari hai gestito l'agenda e vuoi anche migliorare anche sul discorso produttività. Ma direi, bando alle ciance e ciancio alle bande, di dare il nostro benvenuto a Bernardo. Ciao, bello, come stai? Ciao Stefano, ciao a tutti. Benissimo, te? Benissimo. Bernardo oramai è un amico caro di noi Automatikers. Gestisce un blog bellissimo, ve lo farò vedere fra poco. Si chiama Tool per Startup, ma direi, Bernardo, partiamo a gamba tesa dalla prima domanda. Secondo te oggi perché questo tipo di strumenti sono indispensabili? Perché l'agendina di carta, la penna, oppure le mail, lo scambio di mail antipaticissimo. Ci sei il 13 alle 2, no? Alle 2 e mezzo, scambi di mail continui, posta in arrivo, appuntamenti che si perdono. Questi Tool servono proprio a questo. Servono ad ottimizzare il nostro tempo, ad ottimizzare le risorse che impieghiamo e a gestire, diciamo così, gli appuntamenti. Ognuno di questi Tool ha un approccio suo, perché ce ne sono miliardi, miliardi. Ha un approccio suo, vuol dire, ci sono quelli che sono magari integrati in suite produttive più grandi, quelli che si specializzano in un qualche cosa, in due grandi, diciamo così, famiglie. Quelli che gestiscono il team interno, che quindi gestiscono un team di lavoro e quindi coordinano gli appuntamenti e l'agenda del team di lavoro e quelli che invece sono, diciamo così, orientati verso l'esterno, no? Per prendere appuntamenti, mi viene in mente parrucchiere, salone, appuntamenti verso l'esterno e vendita di prodotti e servizi. Bellissimo. Ragazzi, sarà una classifica di diversi strumenti. Ovviamente poi ognuno di voi si tratta di sperimentare, perché non possiamo conoscere tutte le situazioni, quindi voi dovete giocarci, sperimentare e vedere quello che fa più al caso vostro. Io direi di iniziare dallo strumento numero 11. Che cos'è? Che cosa fa? E come si chiama? HubSpot Free Meeting Scheduler. È un modulo della suite di HubSpot, quindi che fa parte di un tool, di un super tool che fa tante altre cose, ed è un modulo per la gestione del calendario. Molto semplice, permette di appunto selezionare il tempo, la data, e si integra con un sacco di piattaforme. Anche qui dobbiamo provarlo, no? Per vedere se fa a casa le nostre esigenze, perché magari utilizzandolo da solo, non è detto che sia sempre, diciamo così, il massimo della produttività. Ma se io già magari utilizzo HubSpot per altre attività, i CRM, la produttività della suite di marketing, perché non provare anche la parte sul calendario? Interessante che è gratuito, interessante che c'è una grafichetta particolarmente, diciamo, abbastanza personalizzabile, interessante, l'unica cosa ti mette il bannerino, che ovviamente è promosso da HubSpot perché te lo dà gratis. Abbiamo parlato di un altro strumento di HubSpot interessante, che è quello per gestire la firma delle tue email, e quindi te lo lascio in descrizione e qui in alto. Email appunto per lo strumento numero 10. Andiamo direttamente allo strumento numero 10, un altro strumento integrato in un altro strumento. Siamo in epoca di meta e quindi viene automatico. Cioè un strumento che in realtà si applica alla suite Google, in particolare Gmail, che fa tante altre cose, tra cui, tra cui, diciamo, l'embed del calendario, cioè inserire il calendario all'interno di una mail di Gmail, in maniera semplice e veloce. Quindi, se utilizziamo Gmail per il nostro business, se utilizziamo la suite di Google, perché non provare la funzione di calendario di Mixmax. Assolutamente. È molto carino, molto sfizioso come tipo di strumento, perché è quello che io chiamo il waltzer delle agende, no? Quando sei libero tu, quando sei libero io, in realtà tu gli mandi una mail con una serie di opzioni, lui clicca, puff, si integra, si fa, e ti sei prenotato senza sbattimenti di sorta, come lo strumento, il strumento numero 9. Il Sidekick AI. Grazie all'intelligenza, a un modulino di intelligenza artificiale, questo è un tool stand alone, cioè che fa sostanzialmente solo questo, si integra con la suite di Microsoft e con Google, quindi Outlook e Gmail, ed ha sostanzialmente tre funzioni principali molto utili, delle pagine di prenotazione, un sistema per trovare l'orario migliore, e il Power to Schedule, cioè si inoltre ha una mail al sistema e il sistema provvede a sistemarci l'agenda all'appuntamento. Bellissimo, a proposito di intelligenza artificiale, uno abbiamo pubblicato qualche settimana fa, qualche giorno fa, un video di strumenti fighissimi di intelligenza artificiale, te lo lascio qui in alto e in descrizione, ma giusto fra un paio di giorni pubblicheremo un altro video, sempre su strumenti di intelligenza artificiale, applicati al copywriting, cioè darai da scrivere a una macchina che ti darà dei testi in pasto, anche fatti abbastanza bene, un video con una marea di strumenti, uno più figo dell'altro, te lo lascio qui, questo vedi questa grafichetta, ti lascio il consiglio proprio da fratello, d'amico, di iscriverti al canale, attivando la campanellina, se non te lo vuoi perdere, perché così YouTube ti iscrivi, attivi la campanellina, attivi l'automazione, YouTube quando pubblicheremo il video, tac, tu non te lo perdi e te lo godi. E poi l'intelligenza artificiale è il futuro, tool semplici, un po' per tutti di intelligenza artificiale, bisogna starci parecchi attenti e guardarli attentamente questi video, perché davvero sono diventati degli strumenti molto utili. esattamente come questo, che è un po' diverso dagli altri, che fa Doodle? Doodle è semplicissimo, è un sistema gratuito, nel piano base, per trovare il momento migliore per fare call, incontri o appuntamenti, magari non ho bisogno di un calendario strutturato, non ho bisogno di gestire un team, ho solo la necessità di trovare un orario migliore tra due o più persone, mando un Doodle e passa la paura. Molto interessante la funzione di questo, io lo utilizzo per due casi diversi, il primo caso è quello che diceva Bernardo, nel senso ci sono dieci persone, dobbiamo anche semplicemente organizzare la cena tra gli amici, quando facciamo, ok, oppure abbiamo una riunione di team, oppure c'è una riunione con il cliente che ha diverse persone che vogliono coinvolgere, ebbene, tu gli metti una serie di disponibilità che tu hai, le persone come votassero quelle in cui sono libere e si vede quella dove sono liberi la maggior parte delle persone e si incastra, ma anche interessante, io lo utilizzo con i clienti, quando per esempio ho dieci clienti che mi devono prendere degli appuntamenti, ma io ho dieci slot diversi, si va a gara praticamente, chi fa prima mi prenota il primo slot che viene tolto e poi andrà a scalare, quindi l'ultimo resta a volcerino in mano e si dovrà accontentare di quella data lì, e di quell'orario lì, però molto 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 interessante in questo tipo di funzione, come è interessantissimissimissimo, questo a specie di madre di tutti gli strumenti, che cos'è Toolper Startup Bernardo? È un blog sui migliori strumenti per il tuo business, stiamo preparando, grazie anche al video che stiamo facendo, un blog post pillar, cioè che contiene i migliori strumenti per fare appunto appuntamenti e calendari, state all'occhio, guardatelo perché probabilmente a breve uscirà su Toolper Startup. Bellissimo, prossimo strumento, il numero 7, stiamo entrando ragazzi nei migliori 5, ancora qualche secondo. Setmore, strumento che anche questo fa sostanzialmente calendario, un po' per team, quindi un po' interno, un po' verso l'esterno, è uno strumento un pochino più enterprise, quindi destinato magari a realtà un pochino più grandi, che ha un sacco di funzionalità, tra cui una booking page, cioè una pagina da mettere all'esterno per gli appuntamenti con un widget, cioè quindi un modulo che possiamo inserire anche nel nostro sito. È un strumento destinato ad attività, a business, anche piccoli, ma strutturati. Bellino, bellino, anche credo ci abbia la possibilità di prendere i pagamenti, quindi insomma, molti di questi hanno la funzione paginetta personalizzabile, paginetta degli appagamenti, quasi tutti hanno un link che puoi condividere in chat, quindi embeddarlo, includerlo, più o meno questi hanno le varie funzioni, ce le hanno un poco tutti. Prossimo, che è il credo il sesto, prima della top five, se non ricordo male. Sì, è You Can Book Me, strumento molto interessante, perché? Perché ha un approccio a metà, a metà tra una gestione interna e un approccio verso l'esterno, una prenotazione degli appuntamenti, quindi organizzo il team e le persone a disposizione in funzione dei servizi e dei prodotti che offro all'esterno, con tutte le funzionalità che hai elencato prima, quindi embedd, mostrare il calendario fuori, gestione della disponibilità e bla 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 bla. Bellino. Allora, passiamo alla top five. Se non ho contato male, andiamo nell'ulgiamo, il gradino più basso di questo podio. Ragazzi, sono tutti fighi gli strumenti, se no non sarebbero nella top 11. Semplicemente sono più versatili, migliori per alcune casistiche. Ecco, questo strumento, in che cosa è, secondo te, migliore o più performante degli altri? Della top five? Sì, della top five. Della top five te lo faccio vedere subito. Team Up. Team Up è un capolavoro di gestione organizzativa interna. Capolavoro perché? Perché con un piano anche gratuito, è una app mobile, permette di gestire le disponibilità di un tot numero di calendari. Ma per disponibilità, ci vengono in mente spesso disponibilità personali, del tempo personale. Ma pensate magari all'organizzazione delle sale di un'associazione, di un circolo, di un'attività che è un po' non proprio business. Io riesco a organizzare la disponibilità delle sale, mostrarla fuori e gestirla tutto il team allineato. Posso condividere un calendario, tutti i calendari, in visione, in scrittura, va provato. Ma anche per esempio per le sale riunioni, per la gestione magari delle postazioni di lavoro, che magari avete centri di estetica e dovete approfittare per... Avete una serie di possibilità molto molto figo come lo strumento numero quattro che si distacca dagli altri che si chiama Motion per... Motion è uno strumento uscito da poco, quindi ci prevediamo uno sviluppo abbastanza rapido. E cosa fa? Si è specializzato nel mettere insieme un software di project management con un software di gestione calendario. Quindi, unisce le task, le attività, con la disponibilità e il calendario. Molto utile in questo caso il paragone che Motion con la M, mi raccomando, fa di com'era la vita prima e com'è la vita con Motion, con tutte le singole voci. Molto utile e molto carino. Tutti i link li trovate in descrizione ed entriamo per direttissima nella top 3, proprio nel gradino del podio più, diciamo, più basso. In realtà sono tutti uno più figo dell'altro. Ma ripeto, secondo noi sono più versatili il... la mamma probabilmente di tutti gli strumenti che è... Calendly, è la mamma di tutti gli strumenti di gestione. È stato uno dei primi, azienda strutturata, molto solida, team di supporto molto presente ed efficiente ed è appunto la madre o il padre di tutti i software di gestione del calendario. Tantissime funzionalità, alcune sono quelle a cui siamo abituati, ma che Calendly ha messo in piedi, diciamo così, per primo. Quindi la condivisione... Quello che ha lanciato sul mercato. Eh sì, sì, è stato uno dei primi, condivisione dei link, integrazione con le piattaforme di meeting, gestione delle appuntamenti in automatico. Se non lo conoscete, fateci una visita. Ah, un piano gratuito, davvero carino, davvero performante, come gli altri strumenti, in realtà tutti a livello di investimento mensile, poi non è che ci strappiamo i capelli, sono pochi euro ogni mese, molto, molto versatile. e performante abbiamo fatto, in realtà abbiamo fatto tra tanto tempo fa, uno dei primi video su questo canale, uno dei primi 200 video su questo canale, abbiamo fatto questo bellissimo tutorial molto rapido, molto veloce, vagli a dare un occhio, dimmi che cosa te ne pare e soprattutto, se ne vuoi uno più aggiornato, me lo scrivi nei commenti in modo che io te lo riregistro. e lo strumento numero due invece. Voglio fare una cosa diversa Stefano, posso? Posso farle una cosa diversa? Posso far vedere un tool che, innanzitutto è italiano, già questo mi rende orgoglioso, che gestisce e si è orientato la gestione del calendario e della pronostazione dei servizi e la gestione degli appuntamenti attraverso gli SMS. Ormai gli SMS prevedono anche l'inserimento dei link all'interno e quindi sono uno strumento utilissimo e performante di marketing. Unire il calendario con questa funzionalità degli SMS può essere veramente un game changer, come dicono quelli che sanno parlare. Molto carino, molto carino, anche perché diciamo, è una di quelle cose che tutti abbiamo, perché non tutti professionisti, magari se avete un'attività locale, ne parlavamo qualche giorno fa con Luca Bove delle attività locali, ti lascio un bellissimo tutorial, anche un video, in questo caso, però magari è un'attività locale, la sciura che si viene a fare i capelli, magari non ha controllo della mail per vedere se la notifica, insomma, anche per ricordare, perché molti di questi strumenti mandano le mail di notifica per dire, ehi, tra due ore c'hai l'appuntamento, questo è utile per ridurre i tassi di show up, vuol dire che la gente che non si presenta all'appuntamento, molto, molto comodo nel caso in cui voi abbiate delle attività, ad esempio, mi vengano in mente le attività locali, che la signora o il signore riceva un SMS di promemoria, e questa cosetta qui è davvero, davvero interessante. Certo, Stefano, e poi molti utilizziamo Whatsapp, però ricordiamoci che invece l'SMS ce l'hanno davvero tutti, cioè, ok, quindi, può essere uno strumento davvero per tutti, quindi, chi ha un business locale destinato a fasce di utenza anche diverse, come esperienza, alfabetizzazione digitale, questo può essere davvero, calendar SMS, può essere davvero uno strumento utile. Andiamo all'altro, andiamo al primo, che è... Dammi solo un secondo, perché qualche tempo fa avevamo fatto con loro, con la stessa società, avevamo fatto un tutorial di sm, tessere fedeltà via SMS, anche questo è una cosa molto figa e molto innovativa del mercato, ve lo lascio sia qui in alto che in descrizione, perché così avete magari un poco di conoscenza in più di questo mondo. Diciamo il primo, il primo, quello un po' più versatile, quello... diciamolo, diciamo che è il primo, è il primo per, diciamo così, celebrità, ma anche perché c'è una grafica bellissima, ma fa degli scherzi. Book Like Boss è come Calendry, è la madre dei tool di gestione calendario, Book Like Boss è la madre dei tool di gestione, di prenotazione degli appuntamenti e dei servizi. Permette tantissime cose, tra cui il segnalo delle funzionalità più interessanti, oltre ad accettare pagamenti, anche la gestione dei codici sconto. Cioè, io riesco ad applicare dei codici sconto per dei singoli servizi o gruppi di servizi, per singoli utenti o gruppi di utenti e quindi riesco magari così a ottimizzare anche il mio business. Cioè, riesco anche ad ottimizzare e a gestire il prezzo sulla base magari di accordi che ho preso precedentemente, utilizzando comunque una piattaforma che permette la creazione di pagine di, tra virgoletta, vendita, chiamiamole landing page, che però prevedono la prenotazione di appuntamenti o servizi o prodotti. Bellissimo, bellissimo. Una carrellata di strumenti, uno più figo dell'altro. Devi scegliere amico o amica automatico in base alle tue esigenze. In realtà questa classifica non ha il vero leader di tutti, ma ha uno strumento che magari potrebbe essere più versatile nella maggior parte dei casi, ma ripeto, dipende molto dalla tua attività. Ecco perché avevamo specificato per ognuno di, abbiamo specificato con Bernardo per ognuno degli strumenti la filosofia, le ottimizzazioni che ci sono. Sta a te scegliere. Io ti dico prima di lasciare due cose, ti lascio, te l'ho promesso due video bonus prima di ringraziare Bernardo. Ti dico, parleremo di queste e di altre automazioni che sono sicuro che ti piaceranno in questo link qui sotto summit.automaticin.com vagli a dare un'occhiata perché dipendendo da quando stai guardando questo video sarà già stato pubblicato o no questo percorso di 12 settimane per automatizzare 12 aspetti di business per attrarre, creare una relazione di fiducia perché altrimenti non si vende e poi per effettivamente convertire i potenziali clienti quelli che abbiamo attratto, abbiamo creato la fiducia ebbene le conversioni per le vendite anche in maniera ricorrente. I barri a dare un occhio e lascia un grande mi piace per il nostro amico Bernardo. Ormai questo ragazzo si è abituato che arriva da dove ci fa e le cose che si è figli. È abituato al pollicione. E vuole il pollicione, se no sarà, poi mi scrive sul Telegram, sul posto, mi dice diamo un pollicione a Bernardo. No davvero, aiutatemi a ringraziare per tutte le cose fighe che ci mostra. No, io ringrazio te Stefano, ringrazio voi e poi naturalmente se avete domande da fare il video, i commenti, eh, lo sapevo, lo sapevo, commenti sono a disposizione e cerchiamo di rispondere a tutti naturalmente. Assolutamente sì. Allora, in questo caso Bernardo, grazie, grazie, grazie ancora al prossimo video e vi salutiamo come al solito con un abbraccio forte dalle Canarie, buone automazioni a tutti, vi lascio a questi due video per la gestione dei progetti e per la produttività. Un abbraccio, ciao, bella, grazie. Un abbraccio, ciao.